ciao ragazzi spero state bene ti ricordo che la scheda non lo trovi più nel video ma la trovi nelle descrizioni quindi vado a scaricare proprio giù canale telegramma ti aspetto anche lì ci sono un sacco di novità quindi questo warm up di oggi l'abbiamo già affrontato in un altro video vado a cercare foam roller quindi ci prepariamo sciogliamo bene i muscoli e ci vediamo alla forza ciao ed eccoci qui alla forza ragazzi bench press direbbero quelli bravi in singhese distensione su panca piano quindi bilanciele vuoto qualcuna la fai di riscaldamento e occhio alla sequenza ed eccoci qui alla forza ragazzi bench press direbbero quelli bravi in singhese distensione su panca piano quindi bilanciele vuoto o alcuna la fai di riscaldamento e occhio alla sequenza l'idea di questa forza e trovare un peso che ti consenta di fare da 6 per 1 fino a 9 per 1 per qualsiasi domanda lo sai iscrivi sotto ci vediamo al workout ciao ed eccoci qui al workout ragazzi anche per oggi il tabata training 25 minuti 4 esercizi attenzione 1 2 3 4 ripeti ancora 1 2 3 4 20 secondi sono di esercizio e 10 secondi sono di recupero dopodiché c'è un minuto di recupero come sempre la traccia musicale per lavorarci sopra te la lascio sotto nelle descrizioni io vi dico ancora per oggi allenati bene iscriviti al canale o al massimo lascia un like per super mario lascia un like a domani o meglio lunedì show iscriviti al canale o al massimo iscriviti al canale o al massimo